11.000 agli alunni abruzzesi che da oggi inseguono il sogno della maturità. Alle 9 l'apertura delle buste con le tracce dell'esame, Pascoli e Verga per quanto riguarda la prima prova, ma non solo perché ci sono anche tanti altri temi di attualità. A Città Sant'Angelo, all'Istituto Spaventa, dove abbiamo incontrato la commissaria dell'esame di Stato, che è la preside Corazzini, che ci ha spiegato quali sono state le emozioni dei ragazzi a tornare in presenza all'esame di Stato dopo due anni e che cosa potrebbe accadere in caso di casi di positività al Covid tra gli alunni. Ho chiesto un po' ai ragazzi, hanno trovato le tracce fattibili dopo il primo impatto, perché capite questi ragazzi vengono da due anni di Covid con tutte le distanze, didattica digitale, integrata, da dei primi due anni a casa, quindi veramente gli ultimi due anni non sono stati molto semplici per noi del settore scolastico, però abbiamo dato ai ragazzi la giusta serenità per affrontare in maniera consapevole, cosciente e piena queste prove che sono sicuramente un ritorno alla normalità. Con la seconda prova il nostro Ministero ha previsto proprio di calibrarla su quella che l'attività effettivamente svolta, quindi la Commissione ha selezionato tre tracce che verranno poi estratte domani, prima di iniziare appunto in sede d'esame e sicuramente anche qui ragazzi insomma c'è stato questo abbreviamento del percorso degli iscritti con due prove anziché tre e poi ci giochiamo un po' l'orale, ma su questo i ragazzi erano abituati perché anzi negli anni scorsi l'orale era proprio la prova fondante diciamo così dell'esame. Devo dire che ho trovato dei ragazzi un po' nervosi, ovviamente ansiosi per tornare diciamo così proprio sui banchi ad affrontare una prova d'esame, però li abbiamo messi ripeto al loro agio e lavorano tutti con serenità. Chiudo, le ha parlato dei casi Covid che comunque sono tanti tra i ragazzi, come recupereranno l'esame di Stato questi ragazzi appunto? Allora, purtroppo questa mattina noi abbiamo due casi Covid nella nostra commissione, quindi adesso io sto sulla commissione web indicando appunto che i ragazzi devono sostenere la prova suppletiva, la prova suppletiva è il 6 e il 7 luglio sperando sempre che i ragazzi siano tornati alla normalità, perché potrebbe anche verificarsi che l'eventualità che non siano ancora ritornati alla normalità e siano ancora positivi, nel qual caso dovranno fare la sessione straordinaria.